...del trequartista, nel tridente offensivo della Fidelis, nel 4-3-3 della Fidelis, quindi è lui che deve essere bravo ad adattarsi a questo nuovo ruolo. Occhio a Mariano, gran controllo dentro per Lucatti, in aria il pareggio del Nardò, tutto in verticale, tutto nasce da un gran controllo con il tacco di Mariani che poi Mariano che ha fatto a sportellate ha servito in profondità a Lucatti.